Un benvenuto. Handel e Arcel, eccola, che riappare in tutta la sua bellezza dopo un po' di tempo in cui aveva lasciato i suoi fan in attesa. Ha deciso di farsi viva, torna ad essere attiva sul suo profilo Instagram e così fa felice tutti i suoi fan. Tu prima di continuare però ricordati di iscriverti al canale per i prossimi video. Avevamo notato come da un po' di tempo Handel e Arcel fosse sparita o meglio assentata momentaneamente dai social e specialmente da Instagram con post che riguardassero la sua vita personale e non ciò che riguarda il suo lavoro ed altre sue attività lavorative. Sono improvvisamente comparsi negli ultimi giorni due meravigliosi post in cui si può vedere quanto sia bella anche nella vita quotidiana e non solo mentre interpreta un ruolo odiatrice o di modella. Tutto ciò non è di certo passato inosservato alla sua fandom che ha subito apprezzato molto. Le foto che ha postato sono molto belle, piene di sorrisi e colori e nel commento fa anche riferimento alle sue amiche che sembra abbiano voluto immortalarla in quei momenti felici. Intanto lei è molto sorridente e sta vivendo veramente un momento di felicità. Mentre il secondo che vi mostro in questo video Handel appare più sensuale che mai anche se in quel momento stava preparando un picnic all'aperto. Ma facciamo un attimo il punto su che risultati ha raggiunto Handel e Arcel. I follower dell'attrice turca non si fermano più e continuano a crescere costantemente. Infatti come vi avevo detto nel mio precedente video i suoi seguaci sono saliti a ben 28,7 mila persone. Cioè 28 milioni e 700 mila. E stiamo per raggiungere un altro punto molto importante. I 29 milioni. Ed è di certo un risultato da non sottovalutare. Sebbene ancora Handel non sia in tv con qualche serie o sop e quindi non la vediamo quotidianamente i suoi follower continuano a crescere regolarmente. Ma da cosa lo possiamo capire? Semplicemente anche solo osservando quanti sono i cuoricini che ottiene sui suoi post. Infatti di solito ha una media di due milioni e mezzo di mi piace. Anche se nel gerdo dei social queste interazioni sono considerate fredde e non fanno capire che intorno a lei però c'è molto molto calore. Handel e Arcel è amata a prescindere se gira o no una serie tv. Ormai è diventata un punto di riferimento per le sue fan delle varie serie turche che ha interpretato. E senza se e senza ma. La amano per com'è. Come vedete anche noi di New Serie TV continuiamo a regalarvi attimi della sua vita di momenti felici. E benché Love is in the Air sia finita già da tempo ed anche il suo rapporto amoroso con Karen Bursin che affascinava tutto il fan club sia terminato, lei rimane sempre una persona piacevole da seguire come del resto succede a Jeanne Yaman che si è anche trasferito a vivere in Italia e continua a muovere un sacco di persone pur di seguirlo. Prima di lasciarci e chiudere il video ricordati di metterci un like se i contenuti di questo video ti sono piaciuti e iscriviti al canale per vederne altri in anteprima.